Fare di necessità virtù è un lato dell'italico carattere da non sottovalutare, quello forse che ci ha resi famosi al mondo nel bene e nel male, come in questa vicenda. La Polizia di Stato di Messina ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare a carico di 11 soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli furti di carburante ai danni dell'azienda di trasporto municipalizzata di Messina ATM. L'indagine è stata avviata nell'ottobre 2013 dalla Digos della Costura di Messina ed ha fatto emergere che di questa organizzazione facevano parte anche alcuni dipendenti dell'ATM stessa. I dipendenti e gli altri che sottraevano gasolio dai mezzi destinati al pubblico trasporto lo rivendevano poi al dettaglio attraverso un vero e proprio impianto di distribuzione artigianale e considerati i prezzi concorrenziali avevano creato una rete di clientela ben strutturata. Il danno per l'ATM è stato di oltre 80.000 euro. Per i dipendenti in crisi economica invece è stato un secondo lavoro con cui ben arrotondare.